Allora, video spesa, il titolo sarà qualcosa tipo fit spesa alla Lidl, vuota la spesa fit di una girl fit, non lo so, qualcosa che ha a che fare col fit, perché questo è proprio uno svuota la spesa fitness sono appena tornata dalla palestra e quindi devo fare questo svuota la spesa velocemente e infatti devo subito assumere i miei integratori e devo prendere la glutamina, quindi due capsule di glutamina poi devo prendere gli aminoacidi BCAA e quindi due capsule di BCAA e sì, sono una che prende pastiglie con un sorso d'acqua anche 10 tutte di botto poi nell'acqua che rimane un cucchiaino di creatina e ho preso tutti i miei integratori che prendo prima e dopo il workout sono appunto tutti di Foodspring e servono appunto per massimizzare i risultati dell'allenamento quindi vi ricordo sempre che non si tratta di integratori per dimagrire, cioè non è che prendete questi dimagrite ma gli integratori servono per rendere la prestazione migliore, per farvi ottenere maggiori risultati dall'allenamento e l'allenamento è una giusta e corretta alimentazione vi aiutano a anche dimagrire oltre che altri benefici, per esempio mettere su un po' di massa magra o comunque per esempio anche delle cose prettamente atletiche cioè vi allenate per correre di più, magari ottenete anche il fatto di diventare più veloci però se parliamo proprio di forma fisica, quindi di costruire un corpo più scolpito e dimagrire gli integratori vi aiutano ad ottenere questo risultato perché migliorano il vostro recupero migliorano le performance dell'allenamento stesso e quindi vi aiutano per una via non diretta anche se vogliamo a dimagrire ma non è che voi prendete queste capsule e dimagrite ragazze, badate bene non si tratta di pillole magiche che le prendete e sparisce il grasso no, vi aiutano a fare quello che è un percorso corretto cioè vi aiutano in quello che è il percorso corretto del ritrovare la vostra forma fisica che è sempre quello di allenarsi e mangiare meglio per la via di alimentazione e allenamento si ottiene anche il dimagrimento e i risultati sono più veloci, sono massimizzati anche con l'integrazione ovviamente per cui creatina, glutamina in questo caso è BCA quindi se vi interessa prendere questi prodotti sappiate che io ho il codice sconto ve lo lascio sempre come al solito in info box e così anche voi potete usufruire dello sconto che io ho che è il 15% però mi raccomando ragazze, corretto, corretto, corretto il regime di allenamento e alimentazione allora, già il mese scorso, mi pare il mese scorso comunque vi lascio qua il video vi avevo raccontato degli aminoacidi ne prendo due capsule prima di allenarmi e due dopo e vi avevo già raccontato a che cosa servono e perché li prendo, insomma sono comunque un integratore famosissimo utilizzatissimo da chi fa palestra ma questo mese ho iniziato l'integrazione oltre che di aminoacidi anche di creatina e di glutamina in pratica la creatina che cosa è? in sostanza è una sostanza che noi in sostanza è una sostanza che noi comunque naturalmente produciamo e che integrata porta numerosi vantaggi uno dei più diffusi praticamente io faccio la fase di carica e poi ne assumo praticamente un cucchiaino giornaliero un cucchiaino dovrebbero essere 6 grammi no, 3 grammi scusate un cucchiaino dovrebbero essere 3 grammi quindi ne assumo 3 grammi prima e 3 grammi dopo l'allenamento oppure 3 grammi a pranzo e 3 grammi a cena se non mi alleno esatto, me lo sono segnato lì perché poi mi dimentico tutte le robe quando invece fai la fase di ricarica praticamente ne assumi varie volte al giorno per un tot di circa 20-25 grammi giornalieri per una decina di giorni fai la carica quindi dopo questi 10 giorni di carica vai invece a... io vado a 3 grammi prima e 3 post allenamento ma comunque ci sono mille modi di assumerla c'è chi fa la carica c'è chi non fa la carica di creatina ci sono insomma varie modalità questo è il modo che seguo io è un volumizzatore cellulare in pratica viene anche prodotta naturalmente dal nostro organismo ma dovremmo mangiare per averne una quantità ingente così come diciamo viene assunta con l'integratore grosse quantità dei cibi che la contengono sono pesce, carne... diciamo che è l'integratore ideale per chi vuole mettere su un po' di massa perché praticamente innanzitutto nelle prime fasi di assunzione incrementa l'acqua nel muscolo quindi dà una volumizzazione un po' diciamo fittizia perché poi quando si smette di prendere la creatina quel volume scende questo è ovvio infatti non la si deve assumere tanto per la sua caratteristica di volumizzatore cellulare che ha all'inizio un po' dell'assunzione ma perché incrementa la forza durante l'allenamento e quindi è ovvio che se incrementa la forza e tiriamo su maggiore peso avremo anche un effetto diciamo a cascata di maggiore ipertrofia e quindi maggiori risultati come integratore per mettere su un po' di massa magra quindi da questo punto di vista fare dei cicli di creatina è molto utile perché si incrementa la forza e incrementandosi la forza si incrementa ovviamente anche l'ipertrofia muscolare viceversa anche nelle fasi in cui ci stiamo definendo quindi in quelle fasi in cui magari aumentiamo anche facciamo un po' di cut di taglio diciamo di calorie diminuiamo leggermente i carboidrati aumentiamo l'attività cardio in quelle fasi lì la nostra massa magra è messa a rischio perché praticamente potrebbe essere intaccata nel perdere il grasso potremmo intaccare anche la preziosa massa magra in questo caso l'assunzione di creatina si rivela efficace perché preserva la massa magra faticosamente conquistata diciamo che questo è più o meno il perché si assume la creatina cos'altro vi volevo dire sulla creatina ah sì a me ha dato risultati immediati mi sono resa conto che BCA e creatina hanno proprio dato una scossa bella potente ai miei allenamenti e sono subito saliti i carichi che ho utilizzato quindi ottima cosa quindi sono molto contenta di entrambi devo dire che io li avevo provati ma tanto tanto tempo fa era da tantissimo tempo che non prendevo la creatina agli aminoacidi sì insieme li trovo una bomba quindi se state intraprendendo un percorso fitness che prevede appunto l'utilizzo di allenamenti coi pesi in palestra sono un'ottima combo questo mese ho anche iniziato a integrare la glutamina la glutamina è un amminoacido ed è un amminoacido importantissimo per due cose fondamentalmente innanzitutto perché rinforza le difese immunitarie infatti è un amminoacido che viene anche prescritto a persone che hanno problemi appunto di difese immunitarie ci sono proprio prove ed evidenze scientifiche che la glutamina rinforza tantissimo le difese immunitarie e ricordiamoci che gli allenamenti mettono anche a dura prova il fisico perché comunque lo devastano tra virgolette di stanchezza quindi comunque un aiuto in periodi anche particolarmente intensi di allenamento e lavoro di glutamina per le difese immunitarie è molto importante anche nel post workout perché incrementa la disponibilità di glicogeno muscolare durante il recupero favorisce la sintesi proteica e quindi vi aiuta a recuperare meglio la fase del recupero è importantissima perché il muscolo sfibrato dall'allenamento coi pesi è nel recupero che poi cresce non durante l'allenamento ricordatevi che non è durante l'allenamento che voi state tonificando passatemi il termine che io odio ipertrofizzare il termine giusto il vostro muscolo lo fate nel recupero il muscolo cresce quando riposa integrate mangiate dormite e il muscolo in quelle fasi lì nella fase di recupero e di rigenerazione migliora si dice che super compensa e in pratica migliora perché migliora perché sottoposto ad uno sforzo che non può gestire il muscolo cosa fa il corpo cosa fa si rende conto di non poter affrontare così per come è strutturato in quel determinato momento storico lo sforzo a cui è stato sottoposto e quindi per prepararsi a superare questo tipo di allenamenti a cui viene sottoposto migliora quindi la volta dopo sarà in grado di affrontare meglio quell'allenamento e quindi si prepara a predisporre tutto quanto il suo apparato il corpo intendo dire migliorandosi ecco quindi che l'allenamento è adattamento adattamento a degli sforzi che il corpo non riesce a gestire ed è per questo motivo che è sempre importante sorprenderlo e portarlo diciamo al di là del limite a cui in quel momento diciamo si trova a cui in quel momento è abituato a quello che è in quel momento la sua zona di comfort bisogna fargliela superare lo stimolo improvviso lo stimolo ulteriore lo porterà a migliorare e tutti questi integratori sono in pratica strumenti che vi aiutano a superare questa soglia a recuperare meglio e ad affrontare in maniera più performante l'allenamento per questa via migliorate anche dimagrite dico questa cosa del dimagrite perché mi viene sempre chiesta assolutamente ma servono dimagrine ma servono dimagrine c'è un po' di confusione sugli integratori ma ci tengo come sempre a dire che gli integratori non sono assolutamente la pillola magica che ingerita mentre stiamo fermi sul divano a mangiare le patatine ci fa diventare più belli più sani più in forma eccetera no gli integratori servono ad aiutarci ad integrare appunto le nostre sostanze nutrizionali che prendiamo dal cibo a integrare appunto il nostro percorso con un aiuto che ci porterà più in là appunto nel percorso quale che sia anche se fosse quello di dimagrimento ok ma non servono direttamente a dimagrire non sono la pillola magica perché la pillola magica non esiste non è l'allenamento non è il mangiare meglio non è l'integrazione ma è l'insieme di tutta questa serie di fattori compreso anche l'importantissimo recupero e riposo come abbiamo detto che vi porterà più in là nel raggiungimento di una migliore forma fisica ok o comunque prestazione o qualunque sia il vostro obiettivo dal punto di vista appunto anche estetico o comunque di performance se siete persone che corrono che pedalano quello che sia il vostro obiettivo lo raggiungerete mettendo nel calderone tutto un insieme di elementi tra cui anche gli integratori detto questo spero di non essermi dilungata molto passiamo alla fit spesa perché? perché sono tornata appunto da dalla palestra e quindi devo assolutamente mangiare ho fatto per cena il pollo con i peperoni ma ci tenevo ad andare alla Lidl uno perché non ci vado da un sacco di tempo e due perché praticamente devo affrontare un mese che sarà quello di giugno particolarmente intenso dal punto di vista lavorativo e voglio avere tutte le mie robe da mangiare pronte precise cioè non voglio tornare a casa e non avere le cose giuste da mangiare proprio perché sono in tunnel con questo percorso di miglioramento e quindi non voglio essere diciamo ostacolata dal fatto di non avere il cibo giusto al momento giusto quindi che cosa compra una fit girl alla Lidl? innanzitutto compra le uova e ne ho preso ben due pacchi quindi 20 uova con cui faccio mille cose ragazze ovviamente dall'uovo in camicia semplicissimo le uova sode da mettere nelle insalate di riso uova strapazzate la mattina ci faccio pancake ci faccio delle frittate che faccio al microonde con le verdure tranquillamente mangio anche 6 uova a settimana 7 uova a settimana e per uova intendo intere cioè col tuorlo perché insomma la teoria secondo cui le uova il colesterolo bla 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 ragazzi è ampiamente superata non demonizziamo le uova è ovvio che se ci mangiamo 20.000 tuorli in più cioccolato in più patatine in più grassi di tutti i tipi e schifezze quello vi creerà vi porterà ad avere delle analisi pessime io tutte le volte che ho fatto le analisi ho un colesterolo che è un bijou perché comunque i miei grassi si è vero ci sono nelle uova però poi per il resto sono controllatissimi grassi di origine animale ben pochi perché cerco di scegliere anche della carne magra e i grassi che assumo provengono da fonti diciamo quasi del tutto vegetali come vedrete dal pesce azzurro e cerco di limitare appunto le fonti animali ma cosa ho preso ancora sacchetto numero 1 non vedrete verdura e frutta perché ieri sono stata a Busto Arsizio e ve lo segnalo ho trovato un posto meraviglioso il supermercato della frutta e della verdura che vende tutto a 0,99 centesimi ho preso qualunque cosa patate cipolle broccoli cavolo bianco cavolo romano cosa ho preso zucchine carote verza insalata di vari tipi pomodori buonissimi poi cosa ho preso frutta ho preso anguria pere pesche mele banane prezzemolo prezzemolo ho preso veramente qualunque patate americane nespole susine di tutto ragazzi ho preso 15 kg di frutta di verdura quindi sono assolutamente a posto poi sono entrata all'emmedichera a fianco e ho comprato l'orzo e il farro e la pasta integrale perché come cereali sono a posto ho preso il latte scremato perché devo rifare i brownies se vi ricordate sono questi sempre di food spring ringrazio le ragazze che mi hanno spiegato che devo utilizzare una teglia più compatta non metterli così perché vengono troppo sottili e poi devo tagliare a quadretti insomma ho capito come devo fare questa volta sarò più brava e già erano comunque buoni perché erano brutti ma buoni però questa volta li voglio fare anche belli quindi ho preso il latte scremato poi ho preso la passata di pomodoro rustica che io utilizzo perché a parte che a volte mi faccio la pasta al pomodoro integrale quindi faccio il sugo di pomodoro però la utilizzo anche per fare che so il pollo a volte per esempio ho già il pollo con i peperoni e ho aggiunto la passata questa è la liscia quella è la rustica oppure faccio delle zuppe varie zuppe verdure ci metto sempre un po' di passata di pomodoro a cui mi piace colorata ragazze sono arrivati gli albumi finalmente alla Lidl si trovano gli albumi non si trovavano assolutamente la Lidl non aveva gli albumi quindi grazie Lidl ne ho preso ben tre confezioni da mezzo litro quindi in totale un litro e mezzo di albumi e anche lì ci faccio tutte le cose che vi ho detto pancake frittate uova strapazzate la mattina poi ho preso il tonno perché è appunto il tonno lo metto sempre nelle insalate di riso insalate di pasta tipo domani farò l'insalata di pasta con le farfalle idem per le olive queste sono le nuove che hanno portato non le avevo mai viste olive nere alla greca costavano 99 centesimi cada busta e quindi ne ho preso tre adesso qua ce ne sono due ma ne ho preso tre anche in questo caso mettendo le olive mettendo magari il tonno che ha un po' d'olio le olive che sono grasse diminuisco la quantità di olio non la metto proprio quando metto il tonno non metto altro olio quindi comunque se so che magari a pranzo ho una bella insalata di pasta con tante olive che le adoro di mattina magari semplicemente non mangio la mia la mia porzione di frutta secca di mandorle che appunto sono una fonte di grassi perché so che avrò comunque un sacco di olive a pranzo e quindi regolo in questo modo l'assunzione dei grassi poi ho preso il formaggio ed ero su diciamo che stavo per prendere il formaggio grana padano poi ho guardato i valori di questo mix grattugiato fresco visto che è anche più proteico e meno grasso del grana padano addirittura 35 di proteine invece di 29 mi pare di grassi ne ha 22,5 o forse era 25 di grassi comunque era più alto e ho preso questo un bussone così mi dura veramente tanto tanto tempo ne metto quando faccio la pasta al pomodoro un cucchiaino quando faccio a volte delle frittate ne metto un pochino nel diciamo nell'impasto della frittata un cucchiaio ma ribadisco idem come sopra mi regolo cerco di vedere insomma quale dose uso di grassi derivanti dal formaggio che sono animali e mi regolo con il resto poi ho fatto un po' di scotta di carne perché avevo finito tutto ho preso il petto di pollo che ho preso proprio due vaschettone ho preso un pesce che è appunto l'orata e la farò credo domani sera poi ho preso il macinato di fesa di tacchino e farò delle polpettine con le zucchine che le adoro e poi ho preso anche il macinato di bovino adulto con cui di solito o faccio le polpette o faccio degli hamburger come vedete è piuttosto magro l'ho guardato era tutto bello rossiccio non aveva grasso quindi comunque una volta alla settimana inserisco anche la carne rossa e poi ho preso le sovracosce di poli ho preso ovviamente il mio grana padano sapete che ogni tot di tempo lo ricompro perché come spuntino mangio sempre un cubettino di grana padano al giorno ma proprio mi dura tanto perché ne mangio un cubettino di due centimetri per due i dischetti perché li avevo finiti l'altra vaschette scatoletta di tonno che vi avevo detto prima poi ho preso i filetti di merluzzo dell'alaska che compro sempre così in o sono tondi vedete o sono quadrati e praticamente li metto nel pangrattato li faccio andare o in forno o in padella nella padella antiaderente li faccio diventare un po' croccantini e poi li condisco con un sughetto fatto con le olive e con i capperi questa è la ricetta della mia amica Betty mi fa impazzire il merluzzo così lo trovo buonissimo poi ho preso i dischetti grossi anche le fit girl si truccano ho preso il misto per soffritto cipolla carata sedano io non soffriggo ma se faccio tipo il pollo in umido così magari ci metto una manciata di questo per insaporire senza però farlo soffriggere poi ho preso il pesto io ad estate faccio delle insalate d'orzo fantastiche col tonno un cucchiaino uno o due cucchiaini di pesto e pomodorini viene una roba super super buona e anche in questo caso sgoccio lo stra bene il tonno o lo metto al naturale perché so che poi metterò come olio al posto dell'olio diciamo il pesto che è super grasso mi fa impazzire orzo pesto pomodorini e tonno è buonissimo sempre per le mie insalatone di riso di pasta quel che sia ho preso due trancetti uno di cotto e uno di pollo anzi no scusate questo è tacchino tacchino arrosto al trancio e li taglio appunto a cubettini e poi ci metto i pomodori il maiz i piselli insomma tutte le altre robe per fare insomma delle insalatone fresche anche perché stando sempre in giro non ho mai il microonde per potermi scaldare pranzo ormai vado solo di insalatone di pasta o di riso fresca insomma di riso qualche è di orzo farro pasta quello che capita i capperi che sapete che sono una adoratrice dei capperi le mele che non possono mai mancare perché io con le mele ci faccio sempre il porridge nel giorno in cui mangio il porridge metto appunto la mela a pezzetti nel porridge bello caldo che mi dà croccantezza è proprio una cosa che non può mancare la mela nel porridge se no non mi piace era la terza busta che mancava delle olive poi veniamo alla penultima busta ragazze qua ho delle novità molto succulente vi voglio vi voglio tenere sulle spine infatti prima vi dirò che c'è un altro sacchetto dove ci sono sei yogurt magri bianchi normali cioè lo yogurt bianco magro normale che ha praticamente 3,9 di proteine e 0,1 di grassi questo praticamente di solito lo mischio lo aggiungo al porridge o ci faccio i pancake o lo mangio come spuntino poi ho preso anche 6 di skir che anche qua lo skir non può mancare nella mia dispensa 11 di proteine 0,2 di grassi sempre sia benedetto lo skir anche qua ci faccio delle cremine con cui faccio i pancake ci faccio i pancake stessi lo mangio come spuntino lo mischio al porridge la mattina stessa cosa si dica per il formaggio quark magro in questo caso abbiamo 11,8 di proteine e 0,3 di grassi lo uso negli stessi identici modi detti appunto prima o anche da solo con un po' di dolcificante per fare merenda e questo era il contenuto di questo sacchetto in pratica è tutto skir yogurt e quark ma veniamo alle scopertone sapete che io non prendo mai panificati e simili perché di solito hanno un inci una lista di ingredienti pessima beh però sapete che faccio sempre eccezione per le fette croccanti con il sesamo che trovate un po' ovunque io prendo queste qua della Lidl queste rosse le altre che ci sono guardato e non vanno così bene queste hanno farina di segale integrale e 10% di semi di sesamo le adoro sono buonissime quando mi faccio le insalate la sera di verdure eccetera sono il top ma ho trovato delle altre cose molto interessanti il pane che sapete che utilizzo queste le fette di pane alla segale anche in questo caso abbiamo praticamente farina di grano tenero tipo zero pasta madre acida farina di segale e poi farina di orzo insomma non è come il pane integrale ma in caso di difficoltà mi va bene anche questo quindi lo tengo sempre lì perché se non ho altro va bene quello però la cosa figa che ho trovato fiocchi d'avena top praticamente sono fiocchi d'avena muesli frutta e noci e gli ingredienti sono pazzeschi 49% di fiocchi d'avena integrale 21% di fiocchi di farro integrale 13% di uva solterina 13% pezzetti di mela essiccata 2% nocciole tritate e tostate e 2% di mandorle tritate praticamente perfetto un prodotto veramente eccezionale non c'è zucchero aggiunto alleluia e non c'è nemmeno sale quindi non so veramente la felicità è troppa ed è questo della linea sempre crown field ma bio si chiama wall grain muesli ed è perfetto attenzione perché ce ne sono 5-6 tipi e questo è l'unico che si salva di questa linea bio ce ne sono 4-5 tipi che sono diversi l'altro era muesli con roba caramellata dentro un altro c'aveva il cioccolato un altro c'aveva la frutta ma tutta con lo zucchero insomma occhio perché è solo questo che si salvava ragazzi ho trovato delle robe che non compro mai le ho tirate su ho letto gli ingredienti i bio grissini al farro sono promossissimi hanno l'86% virgola 35 di farina di farro biologico 4,32 di olio di girasole 4,32 di extravergine d'oliva tutti biologici estratto di malto d'orzo biologico lievito sale acqua cioè top top veramente finalmente qualche grissino da sgranocchiare con le mie insalate che non sia una schifezza e voglia dirsi per questi i crostini integrali con il 7% di olio d'oliva sono incredibilmente promossi mi aspettavo di girare e di leggere che di integrale non avessero nulla e invece ragazze hanno ragazzi il 7% di olio d'oliva l'85% di farina integrale di grano tenero il 7% di olio d'oliva l'ho detto e poi sale e basta olio extravergine di oliva lievito e farina di frumento maltato per il resto quindi però l'85% è farina integrale non me lo sarei mai 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 aspettata quindi veramente ottimo e con questo ho concluso questa puntata di fit cibo alla Lidl e di integrazione io spero di avervi tenuto compagnia di avervi dato un po' di info interessanti vi mando un bacio ci vediamo alla prossima con un nuovo video ciao ciao